bf store beauty fragranze abbigliamento a tecnologia fir oggi direttamente a casa vostra per voi un accessorio stupendo un accessorio fashion ma soprattutto che punta al vostro benessere uno scaldacollo a tecnologia fir che oggi jessica ci racconta le sue caratteristiche ciao jessica ciao antonella grazie dell'invito uno scaldacollo davvero molto interessante fatto con il filato fir raggi infrarossi e lontani che questa tecnologia nuova che aiuta e da tanti benefici al nostro corpo in questo caso al nostro collo intanto è super interessante l'offerta economica per il tipo di tecnologia che è e ha dentro anche un pochino di elastan è morbidissimo ve lo posso garantire in più ha un peso che va bene per tutte le stagioni quindi io consiglio sempre di tenere uno scaldacollo in borsa perché ci può essere davvero molto utile ci può essere utile d'inverno perché c'è freddo ma anche d'estate perché abbiamo di solito gli ambienti sono tutti condizionati oggigiorno e anche l'aria condizionata che ci arriva direttamente sul collo vi posso garantire che non è il massimo che benefici da questa tecnologia fir aiuta la circolazione sanguinea combatte la cellulite riduce qualche piccolo malessere come può essere l'ansia l'insonnia lo stress e va a riattivare quello che è il collagene quindi tantissimi benefici in un unico prodotto 26 euro chiamando il numero in sovrappressione 0 5 3 2 90 89 50 arriverà direttamente a casa vostra questo fantastico accessorio un capo d'abbigliamento firmato bossan direttamente per voi e soprattutto per il vostro benessere quindi stop alle cervicali stop alle infiammazioni stop ai mal di gola o soprattutto anche per un regalo per il vostro marito per il vostro compagno per quando va a correre per quando va in bicicletta un accessorio di cui non potrete più fare a meno fare a meno perché vi darà quella sensazione splendida come quando vi date una crema idratante perché la stimolazione della micro circolazione fa sì che aiuta il benessere di tutti voi grazie per essere stati con bf store beauty fragranze